Guardate che meraviglia di Scarabatto, siamo nella fine del Settecento e qua il gusto dell'intarsio sia per quanto riguarda, vedete qua c'è un piano che si muove come tutti naturalmente i segreter, però questo è bloccato perché c'è un piccolo segreto qua dentro, c'è una molla sulla quale bisogna intervenire, altrimenti c'è questa sicura, cioè cosa vuol dire? Che il proprietario chiudeva questo e nessuno poteva entrare né qua né qua, una doppia sicurezza. Grazie a tutti. Ma se vi fidate, non occorre, vedete la casa e capirete che a 24.500 Euro è un ottimo investimento, io parlo di investimento non soltanto in termini culturali, non soltanto in termini di arte banistica, io parlo di investimento anche dal punto di vista economico, perché? Perché già oggi una ribalta olandese come questa vale di più di quanto io vi sto chiedendo, scusatemi, vale di più. Ma nella logica che ogni anno che passa ce ne sono sempre meno nel mercato internazionale, questi mobili sono destinati ad avere quei valori che hanno i mobili storici.